Ciao a tutti e buoni sul canale dell'Ina. Eccoci con i nostri gattini. Oggi abbiamo un biglietto da 5, 2 da 3 e 3 da 2. Incominciamo con quelli da 2 che sono consecutivi 57, 58 e 59. Ok, 3 su in cento. Ora mi sono tutti amici. Vediamo un po' quello che ti dice il prezzo. Questo è il biglietto 57 serie 88. Ok, vediamo un po'. Allora, 3 simboli uguali ricordo. Vediamo se la mia moneta gratta, non so, ultimamente non trovo monete che grattano, ma cambiamo. Saranno le mie monete o saranno i gattini? Buh. Lingotto, albero e lingotto. Poi abbiamo salvagonaio, salvagonaio e diamante. Corona, portafoglio e sole, tutti diversi. Piore, corona e portiere. Primo biglietto, 9 in cento. Ok, ciao. Continuiamo con il nostro twist numero 59. Forciere, forciere e portiere. Ok, qui abbiamo un premio. Qui abbiamo soldi, salvagonaio e collana. Continuiamo con diamante, perla e diamante. E qui abbiamo anello, anello e albero. Il postiere si dice 2 euro. Ok. Il biglietto numero 59 si è ribagato. Andiamo con l'ultimo di 2, numero 58. Allora, soldi, soldi e pentola. Diamante, farfalla e monete. Poi abbiamo, farfalla, due vita e portafoglio. Carta, carta e lingotto. No, niente. Niente da va. Un biglietto, 9 in cento. Ciao. Adesso andiamo con la doppia sfida. Smile. Un mini, come la chiamo io. Questo è il numero 41 della serie 29. Ok. Allora, 42, 27, 44 e 22 per 3. Ok. Incominciamo con un 19, che io non ho. Abbiamo 26, 16 e 24. No. 21, 21, 46, 23. Però 21, no, è un allieviato. E 43. Poi abbiamo 13 e 34. No, no, niente. Vediamo gli importi. 15, 150, 200.000, 5.000, 5.000, 5 euro, 50, 5.000 euro, 50 euro, 500 euro, 20 euro e 10 euro. Niente. Niente. Biglietto, non mi sente. Ciao, numero 41. Adesso abbiamo 42. Sempre solo 29. Vediamo un po'. Allora, 43, 17, 38 e 24 va a 3. Primo numero. Cominciamo con il 34. Abbiamo 13, 44 e 17. 45, 45, 23, 30 e 31. Abbiamo 37 e 32. Niente, niente di niente. Vediamo gli importi. 300.000, 500, 500, 500, 50, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. È il primo? Sì. 3, 10.000, sono 2. e 5.000. E niente da parlare, niente. È detto, non mi sento. Ciao. Adesso andiamo con POP. Numero 4 della serie Undis. Ok. Ok. Simboli abbiamo lampadina, banana, arcobaleno e globo. Incominciamo con un disco. Poi abbiamo bowling e la valigia. Non ciò che parla. Continuiamo con bantacassette. Poi abbiamo la lampadina, la lampadina per 5, amici. Buono, buono, buono. Buono. Occhiali. Poi abbiamo la cassetta. Continuiamo con le patatine. Poi abbiamo la bocca, popcorn e la soglia. Comunque abbiamo la lampadina per 5, amici. Non penso che sia niente altro. Una mela. Borsellino. E questo, che cos'è? Un chile. Vediamo un po' la lampadina che ci dite. Ma 5 euro. 5 per 5. Comunque sono 25 euro, amici. Buono. Buono. Meno male ci ho salvato il video. Perché ti ho saputo il video che abbiamo fatto. avevamo solo 2 euro con il 3. Con la lampadina abbiamo fatto 25 euro. Ok. Grazie ai pop. E grazie a tutti, amici. Qui abbiamo grattato, praticamente. Nel nostro video mi è messo così. 1 da 5, 2 da 3 e 3 da 2. Il recupero è stato di 27 euro, amici. Buono. E vince. Oggi andiamo in vincita. Ok. Ogni tanto ci vuole. Anche per la linea. Ok. Grazie a tutti, amici. Grazie a tutti. Vi aspetta nel prossimo video. Iscrivetevi e condividete un po' di canto. Ciao a tutti. Un bacio, un abbraccio alla linea. Ciao. Al prossimo video.